Ciao amici e bentornati alle recensioni canale di Paolino 1 Oggi abbiamo l'LG P970 Optimus Black Smartphone veramente sorprendente Probabilmente sarà l'ultima video recensione dell'anno E chiudiamo veramente coi fiocchi In quanto riserverà delle belle sorprese questo smartphone Seguite pure la recensione, non ve ne pentirete La confezione ha questo copri scatola Dove appunto si implementa questo display nuova Che è la nuova tecnologia che dopo vi spiegherò della LG La confezione è molto fine Un cartone molto satinato, molto bello da vedere Caricabatteria, ovviamente micro usb e con caricatore da muro E anche a volte cavo per lo scambio dati Cuffie di ottima qualità in ear E anche una micro sd che è nel telefono da 2 gigabyte In quanto un solo giga di memoria interna nello smartphone Quindi una confezione direi buona Visto i tempi che corrono Avere cuffie nere e una sd di dotazione è già qualcosa Quindi già qua un applauso a LG Telefono molto molto bello Pesa, pensate, solamente 109 grammi Ed è veramente, a me, esteticamente piace moltissimo Linea essenziale, nessuna spigolatura Molto leggero, smussato tutto sui fianchi Potete vedere anche qua sopra queste bellissime smussature Che ha negli angoli Fanno sì che assuma una forma molto elegante e molto maneggevole Pesa solo 109 grammi È alto 122 x 64 x solo 9,4 mm di spessore Quindi compatto Materiali senza schiccoli Smussature, estetica molto bella E peso veramente contenuto Bellissimo il design davanti Veramente, veramente bello Questa scritta LG non molto marchiata Qua sotto il vetro sta veramente bene Cam frontale, pensate ad alta definizione Da 2 megapixel Quindi anche qui non hanno vadato A lasciarci senza una videocamata Molto molto buona Sensore di prossimità e sensore di luminosità Diciamo appunto di questo bellissimo schermo Capacitivo multitouch 16 milioni di colori 480 x 800 pixel Tecnologia nuova Tecnologia nuova che permette di avere 700 nit Cioè lo schermo più luminoso sul mercato O tra i più luminosi Consumando meno dei suoi concorrenti Quindi un risparmio energetico Il 30% più efficiente Nonostante la resa più alta di luminosità Quindi anche qui veramente Bellissimo lo schermo E bellissima anche questa soluzione Che è il G E' riuscita ad adattare in questo telefono Vediamo un attimino i lati Lato destro pulito Sotto troviamo L'apertura del copri di batteria Sul lato sinistro Pulsantina del volume più o meno E il GK Che dopo vi schierò che tasto è Altra funzione implementata in questo telefono Molto interessante Sopra abbiamo Accensione di spegnimento E sblocco schermo Qui c'è il portellino Micro USB per la ricarica Jack 3,5 Ingresso per il Jack 3,5 standard Per le cuffie Chiudiamo lo sportellino del micro USB Apriamo il vano della batteria Perché vi voglio far vedere La batteria Vi voglio far vedere Gli ingressi del telefono Si fa una leggera pressione al centro E' molto molto duro Diciamo il copri di batteria Quindi ben assemblato Batteria Ovviamente la vedete qua 1500 mAh Grazie al risparmio energetico Dello schermo Ci porta oltre la giornata di utilizzo medio E con una giornata di utilizzo intenso Tranquillamente a sera Quindi molto bene anche la gestione Del risparmio energetico E della tenuta della batteria Micro SD E slot per le SIM Qua di sopra Come dicevamo Io ho una 4 GB Ma in dotazione c'è una da 2 GB Espandibile fino a 32 Andiamo a richiudere il vano Scusate Facendo una leggera inserimento Chiudiamo tutto Sentite le plastiche Come in tutti gli smartphone Devono essere richiuse bene Perché magari rimane qualche apertura O incastro non eseguito In maniera corretta Tenendo premuto sopra Lo accendiamo Vedete subito la luminosità Che balza all'occhio dello schermo Che è molto molto elevata Pensate che io comunque sono sotto La metà della luminosità Impostata manualmente A me non piace La luminosità automatica Tendo a gestire Io la luminosità Direttamente manualmente Sotto la luce del sole A detta delle LG La rese è molto molto più elevata Grazie a questo Nova E devo dire che è vero Ho provato anche sotto la luce Diretta del sole Lo schermo risulta molto leggibile È molto molto performante Grazie a questo display Nova che vedete Ha una risoluzione stupenda Colori brillantissimi Luminosità elevatissima Vi ricordo Sotto la metà Della luminosità totale Guardate già Che limpidezza Allo schermo E questo risultato permette Grazie a Nova Di risparmiare anche energia Un 30% in più degli altri Se poi aggiungete anche Un'applicazione come Green Power Otterrete il massimo Dal risparmio energetico Possiamo sbloccare lo schermo E vedere i classici widget Versione 2.2 Tra poco aggiornabile Alla 2.3 Gingerbread Di Android Vedete Velocità di sistema Molto molto interessante Nessun impuntamento È stato riscontrato Durante il mio uso quotidiano Del telefono 4 tasti a sferamento Classici di Android Tasto di ricerca Tasto indietro Tasto home E tasto di apertura Delle opzioni Parlando un attimino Del processore Di questo bellissimo Telefono 1 GHz Con 512 di RAM Che fa funzionare Benissimo il telefono Vedete infatti Come vi dicevo Single core Ma che funziona Veramente bene E non ha Nessun tipo di problematica Anche nel menu Possiamo tranquillamente Vedere lo scorrimento Veloce È la risposta Che ha il telefono Perché grazie a questo processore Queste RAM Molto molto Ottimizzate bene Il telefono È molto fluido UMTS HSDPA Velocità di download 7.2 Mbps In upload A 5.76 Quindi molto molto completo Anche dal punto di vista Della HSDPA Il telefono ovviamente Dotato di Wi-Fi Wi-Fi Direct Quindi si possono scambiare Anche i file Direttamente Di LNA A GPS GPS Bluetooth E ovviamente Come dicevamo Anche il Wi-Fi Quindi completissimo Dal punto di vista A BGN ovviamente Completissimo dal punto di vista Della connettività Non gli manca Veramente niente Sblocco schermo Poi qua potete impostare Voi a piacimento 30 secondi 1 minuto 5 minuti Per quanto riguarda poi L'accensione Allo spegnimento automatico Dello schermo Io uso i 30 secondi Per risparmiare Energia Parlavamo appunto Di tutti i sensori Presenti Nel telefono E anche della videocamata Andiamo ad analizzare Un attimino Quella che è La versione Del software La versione del software Come vi dicevo È la 2.2 Ve la faccio vedere Qua sotto Nelle info sul telefono Possiamo vedere Android 2.2.2 Aggiornabile La 2.3 Come vi avevo detto Prima Qui ci sono tutte le informazioni Ovviamente Sulle versioni Software Il numero di build Di kernel Eccetera eccetera Parliamo della parte Della chiamata Che è veramente interessante Questo è brandizzato Team Esiste anche una versione Non brandizzata Del telefono Ovviamente Ma non è molto invasiva Ci sono solo delle icone Diciamo Blu e rosse Classiche Della team Per il resto L'accensione Lo spegnimento Il logo Nient'altro Non disturba Più di tanto La brandizzazione Facciamo subito Una chiamata A 139 Sentiamo il viva voce Così possiamo renderci Conto un attimino Abbassiamo il volume Al massimo Allora Diciamo che Il volume è molto alto Anche se Al massimo Del volume Qualche leggero Stridolio C'è Qualche leggero Stridolio Ma proprio leggero Se abbassiamo Di una tacchetta Il volume L'audio sarà pulito Quindi un audio Molto potente Ma magari Non pulitissimo Al massimo Del volume Per quanto riguarda Chiaramente Tutte le applicazioni Di Android Oramai le conoscete Presente Ovviamente Come suite office Di installata Di default Abbiamo Polaris Abbiamo la ricerca vocale Abbiamo la classica Cocratice La sveglia Il canale di ricerca Google Il navigatore Ovviamente Di Google Il market Le maps Eccetera Eccetera Ovviamente Gmail E compagnia Bella Delle applicazioni Che sono sempre presenti In Android Quindi io andrei subito Nella messaggistica Andiamo magari A comporre un messaggio Bella la tastiera QWERTY Veloce Io ho installato La swipe Ma vado a inserire La tastiera Magari di default DLG Per farvi vedere Appunto come Gestita Che è molto carina Sapete che sono Un partito Della swipe Vedete i numeri Lettere molto grandi Molto stile Iphone Se vogliamo Però si può scrivere Molto bene Difficilmente si sbaglia Premere È molto veloce E reattiva Vedete come Lavorano bene Processore RAM Non abbiamo mai Impuntamenti Cerco di andare a fuoco Per farvi magari Vedere i numeri Sto un attimino fermi Le lettere Comunque Oramai le tastiere Si assomigliano tutte E Non c'è molto da capire Molto da imparare Ma è sempre bene Analizzare tutto E analizzarlo al meglio Comunque Vedete Se noi andiamo a scrivere Le nostre lettere Sono chiaramente Evidenziate Rialzate È tutto molto veloce Tutto molto fluido Si può fare ovviamente MMS E qualsiasi cosa Sia possibile fare Nella messaggistica Parlando un attimino Della fotocamera Della videocamera Andiamo subito ad aprirla Vi spiego Intanto che abbiamo a che fare Con una 5 megapixel Autofocus E flash LED Di ottima qualità Video 720p HD Quindi anche da questo Comparto multimediale Il telefono Risconta una completezza Molto interessante E anche un'ottima qualità Di resa Delle fotografie Facciamo subito una foto Al nostro mouse Ovviamente Piazziamolo qua Bene Mettiamo a fuoco Il discorso E Flash automatico Fotografia Eccola lì Resa della fotografia La potete vedere voi Io mi avvicino Comunque Molto limpida Molto bella 5 megapixel Che lavorano molto bene Anche il flash È molto intenso E Comunque Soddisfacente Un buon reparto fotografico Per quanto riguarda i video Appunto Diciamo 720p Possiamo andare Nel reparto video E girare magari un video Un piccolo video Per gli amici Del canale De Paulino 1 Per la LG Optimus Black Su questo bel mouse Della Apple Chiudiamo Proviamo a rivederlo Play Volume al massimo Diciamo che il video È molto fluido Molto bene Se il reparto foto Video L'audio migliore Che nella chiamata Come avete sentito Anche al massimo Del volume Stridola meno Quindi è proprio Un discorso Della chiamata Infatti proviamo Anche andare Ad ascoltare Della musica In viva voce Ci renderemo Conto sicuramente Che l'audio Non è così Stridoloso Come nella chiamata Andiamo ad aprire Il volume Scusate un attimo Eccoci qua Sentite al massimo Il volume Non ha quello stridolero Molto più pulito Molto più pulito Ecco qua Molto più pulito Anche se al massimo Del volume Ha un po' Quel sapore metallico Ma molto più pulito Quindi il reparto audio Diciamo dal punto di vista Sia dei video Che della musica ascoltata O delle suonerie Pulito Anche se è un po' Metallico Nel reparto Diciamo Viva voce Al massimo Del volume Un approccio al massimo Leggermente stridoloso Ma comunque Nel complesso Un buon audio Per quanto riguarda Invece ovviamente Il discorso Della fluidità di sistema Già ne abbiamo parlato Vedete Come vi dicevo Il telefono È molto molto fluido Navigazione web Ovviamente Browser Apriamo subito Un preferito Velocità di caricamento Molto molto interessante Fluido Ovviamente flash player L'ultima versione Gestito Pinch to zoom Molto veloce Il reattivo Sta ancora caricando Ma nonostante questo Già il pinch to zoom Lavora Vedete E vedete Anche il pinch to zoom Come funziona bene Come sono visibili I caratteri Anche da vicino Quindi la navigazione Risulta Risulta Molto fluida Molto veloce Un hsdpa Molto interessante Ma soprattutto Processore round Che lavorano molto bene Magari adesso Nel momento Che sto caricando Il pinch to zoom Di rientro Ha dato Un leggero Rallentamento Ma Vedete È già tornato Tutto bene La navigazione fluida Non preoccupatevi Più che soddisfacente Potete tenere anche Con due mani Ovviamente Vedere Da vicino Magari Un pochino Più a fuoco Comunque il rendering È molto buono Bene Parliamo di questo tasto Molto interessante Perché l'EG Ci ha regalato Una funzione nuova Che è il GK Lo vedete qua Questo tasto Praticamente È un tasto alternativo Che ci permette Di usare Delle funzionalità Del telefono Che di solito Usiamo Come il pinch to zoom Lo scorrimento Delle pagine Con il dito Esempio molto semplice Schermata iniziale La vedete Ferma Tenendo premuto Questo bottone Il GK Noi possiamo Spostarci Vedete Nelle schermate Solo muovendo Il telefono Quindi questo tasto Abilita lo spostamento A sensore Ovviamente L'accelerometro In questo telefono È presente Non sto neanche A ripeterlo Ovviamente E quindi Anche per esempio Nel browser web Se rientriamo Volevo farvi vedere Appunto Un attimino Un altro sito Così almeno Magari Vi rendete conto Facciamo caricare Una pagina Telefonino Punto net Vediamo subito Come con questo tasto Adesso faccio caricare Vedete È veloce il caricamento Avremo un pinch to zoom Della pagina web Con un colpo No scusate Ho scorciato il volume Qua sotto Vedete Premendo il GK Torna in giù Premendo il GK Torna in su Se teniamo premuto Vedete che le pagine Si spostano Quindi abbiamo Un sensore di spostamento Del web Tenendo premuto Il GK Quindi è molto interessante Anche questo tasto Che ci permette Ad avere un zoom Avanti e indietro È un movimento Delle pagine internet Ed è in menu anche Di android Tenendo premuto il tasto Quindi molto interessante Bella anche questa funzione Cosa dire di questo Ligi Optimus Black Veramente sorprendente Un ottimo Un ottimo device Da parte di LG Per quanto mi riguarda Non stento a dire E lo dico tranquillamente Che è il più bello LG Che abbiamo provato Leggero Compatto Materiali molto buoni Anche se plastici Molto molto leggero Molto molto sottile Veloce e reattivo Multimedialità Al top Non gli manca Veramente niente È un design bellissimo La batteria Ottimizzatissima Schermo stupendo Con una luminosità Elevatissima È un risparmio energetico Altrettanto elevatissimo E anche questo tasto GK Molto molto interessante Quindi qui veramente Leggi su questo telefono Le azzeccate tutte Quindi un voto molto alto Un telefono molto valido Che consiglio Soprattutto visto il calo di prezzo E nelle offerte In cui si trova Addirittura vicino ai 200 220 euro Veramente È un must Da avere assolutamente Soprattutto a quel prezzo Volevo augurarvi Ovviamente Buon Natale Buon anno Se non ci sentiamo A voi e alle vostre famiglie Con le recensioni Augurandovi magari Un 2012 pieno di smartphone E di altre Attentante recensioni insieme Grazie e ci vediamo sul canale De Paulino 1 Ciao Da Paolo Alias De Paulino 1 Ciao grazie